Buonasera, Nicolai Angione, Fiorouge.it, partner di Expo Tecnocom. Ho il piacere di parlare con... Sono Gabriele Masciotti. Ciao Gabriele, quale azienda rappresenti? Rappresento la gamma SNC. Di cosa si occupa la tua attività? Facciamo strutture in legno, dal singolo portico alla casa abitativa in legno, Totalwood. Ok, qui leggo anche che fate lavori su misura appunto. Sì, noi ci siamo distinti dagli altri, non proponendo al mercato il gazebo standard, ma accogliamo l'esigenza del cliente di ogni singolo individuo su misura, ognuno ha le necessità. E come sta andando questa manifestazione per voi? Sono stato piacevolmente sorpreso e stupito dei contatti che abbiamo raggiunto, delle richieste di preventivo. e sono proprio contento e orgoglioso di aver partecipato. Ok, il nostro portale si chiama Firouge. Qual è il Firouge di gamma SNC? Sicuramente la passione che ha accomunato la mia vita a legno e penso che valga proprio la pena investire in questa nuova costruzione. In conclusione, come diciamo noi di Firouge? Entra in scena. Grazie a tutti.